buongiorno e buon mercoledì allora pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanina per ricevere i notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono commento ne sostengono questo canale e ci danno una mano fa crescere il secondo canale il link per il secondo canale ve lo metteremo ogni tanto in descrizione di questi video e lo metterà alessandra nei post anche lì ogni tanto allora le lavorazioni sono state pagamenti per il 26 alcuni hanno visto data del 27 e pagamenti in corso come è successo negli altri mesi anche negli altri mesi sono partiti con il 26 ne hanno pagati pochi 26 la maggior parte del 27 cioè oggi e alcuni ne riceveranno anche domani a differenza dell'rdc cui c'era una data il 90 per cento venivano pagati in quella data e pochi venivano pagati nei giorni successivi qui si va a flusso una volta che partono vanno avanti anche nei giorni successivi a prescindere in questo tecnicamente stanno copiando le norme che c'erano anche nell'rdc in cui post italiano aveva quattro giorni per effettuare la ricarica però fattualmente raramente faceva cose di quel tipo tranne negli ultimi mesi dell'rdc in cui letteralmente ha fatto ha fatto il devasto qui la norma è quella ci sono degli altri problemi che sono venuti fuori sì chi ha dovuto fare la dcom beh si è trovato la lavorazione in sospeso cioè non ha trovato la lavorazione è altamente probabile che la motivazione sia l'aggiornamento dei dati aggiornamento dei dati che una volta fatto farà riprendere le lavorazioni potresti anche ricevere la lavorazione di marzo non adesso ma a metà aprile oppure ritornare a fine aprile e trovare la lavorazione a retrata di marzo anche a maggio ragazzi io vi sto dando delle ipotesi non prendete quello che dico come statutario la logica direbbe hanno inserito i dati fai la lavorazione e fai la ricarica di marzo a metà aprile come se la gente vivesse d'aria e poi a fine aprile riprendi con le lavorazioni normali ecco alcuni hanno hanno avuto la dicitura accolta da sospesa hanno ricevuto per la lavorazione di questo mese mancano gli arretrati anche quegli arretrati dovrebbero essere liquidati a metà mese quindi avete avuto la lavorazione di marzo se gli aspettavano gli arretrati di gennaio e febbraio dovreste trovarli a metà aprile non so se saranno entrambi o uno a metà aprile o uno a metà maggio detto la misura è nata da troppo poco tempo per definire già qualcosa di sistematico per cui possiamo solo aggiornarvi ogni volta che succede qualcosa le questioni dei carichi di cura io la prossima settimana quindi martedì o mercoledì prossimo probabilmente martedì facciamo un'eccezione perché lunedì è festa cercano di cerco di passare due giornate anche voi giustamente avete per carità farete delle feste pasquali che meglio è meglio evitare dire cosa penso però due giornate torniamo martedì sia qualche sul secondo canale qui cercherò cercheremo di spiegarvi il problema dell'inserimento dei dati con carichi di cura perché ha ragione micchi ragione moderatore troppi di voi hanno inserito dati inutili col risultato di ingolfare il sistema cioè se avete una situazione cioè se avete una disabilità i carichi di cura non c'entrano niente sono una cosa completamente diversa ma intasano il sistema creano problemi e possono generare una situazione per cui la domanda di venere spinta anche se avete diritto all'adi pagamenti delle sfl anche qui alcuni hanno già ricevuto le date alle memorazioni sono state fatte tra venerdì e lunedì alcuni hanno ricevuto le date benissimo ovviamente le date messe come vogliono e proprio per rispondere alla domanda di uno di voi ieri non c'è un orario in cui deve arrivare la ricalca se è un bonifico bancario cioè condominciazione bancaria i bonifici arrivano nell'arco della giornata ma generalmente la mattina addirittura anche di sera anche di notte ecco lo dico per esperienza diretta ecco diciamo così possono arrivare anche di notte non avete una data non avete necessità di certificazione i bonifici dell'sfl non c'è cioè sono soldi vostri non c'entra la carta non non ci sono per senso lì limiti del prelievo alto non ci sono punto perché sono depositi vi formati in banca e li ve li gestite voi stessa cosa anzi la cura ancora di più se avete domiciliato tutto in posta in posta vi arriva il mandato di pagamento voi fate ritirare i soldi vi danno tutti insieme i contanti non è che vi danno un pezzo qui un pezzo là quindi ve li gestite voi per la cifra ridicola che è in merito poi al programma di questo di questa settimana vi aggiorno io poi vi aggiornerà anche alessandra domani ci sarà un video sul secondo canale non su questo venerdì abbiamo già registrato un piccolo augurio che uscirà alle 16 su questo canale video estremamente breve se volete se ve la sentite di passare un'oretta in compagnia io faccio una live su questo canale ed è probabile che ci sia una live sul secondo canale già dalla prossima settimana ma quelli sono live se vi interessa farvi due risate e fare quattro chiacchiera a cavolo sono live di gioco sono live in cui si chiacchiera di tutto ma non delle cose che mi toccano di più ecco perché finalmente sembra che si aprirà l'autorizzazione ragazzi io spero che troviate tutto quello che vi serve che arrivino i soldi che vi aspettano purtroppo mi sembrano ancora problemi con l'utilizzo delle carte problemi che letteralmente stanno stiamo nel campo dell'assurdo perché uno la utilizza acquista i beni che può acquistare poi non gli passa e non si sarà una bella pasqua uno di voi mi ha chiesto quando esploderà la bolla se c'è la borsa già esplosa il problema è che esplosa ed è troppo silenziosa questi hanno dei problemi all'udito ma grossi altro che ampli foro a questi devi mettere nell'orecchio le trombettoni che si usavano sui vecchi sui vecchi gramofoni perché non ci sentono non lo capiscono e hanno il tipico atteggiamento di chi da pancia piena non capisce chi ha la pancia vuota ciao a tutti gente